Grazie, Presidente cercherò di essere breve anche se voglio dire, già ieri i tempi sono stati ampiamente sforati, quindi spero che sarà clemente anche con noi come lo è stato col gruppo SEL. Comunque, devo anche dire che io sono arrivato qui senza sapere molto bene cosa dire, nel senso che in un intervento sul bilancio ci si aspetterebbe, in parte lo farò anche il commento dettagliato a singole voci di spesa, però ho l'impressione che non sia proprio questa la cosa più importante da fare, nel senso che il rischio, come anche il rischio di proporre emendamenti qui o là, è quello di perdersi nell'abitudine che la politica ha di occuparsi di casi specifici, per non dire proprio delle cosiddette marchette, ma insomma, comunque di pensare a situazioni singole perdendo di vista la visione generale. E invece, secondo me, qui è proprio la visione generale che bisogna tracciare, perché il rischio è proprio quello di perdere di vista il complesso di quello che sta succedendo. Questa è una città il cui bilancio dimostra sostanzialmente una città che tende al disarmo, una città il cui bilancio è proprio una sede di continui arretramenti, di ricerche di fondi, per concludere, per riuscire a riportare il pareggio, che non è solo un problema fondamentale, il problema fondamentale è quello che la città indebitata è una parte crescente, ormai molto significativa delle sue entrate, vanno a pagare gli interessi sui debiti e contratti in passato e questo impedisce di portare avanti quello che i cittadini si aspetterebbero di ricevere nella città, come è sempre stato in passato. E quindi un po' in tutte le aree si trovano dei tagli o si trovano delle vendite, a partire dalla vendita di GTT, che è la versione di quest'anno, insomma, rispetto a quella dell'anno scorso che era la vendita di AMI e TTRM, l'anno prossimo non so cosa venderemo, però siamo di nuovo qui con anche i teatrini del vendiamo il 49, vendiamo l'80 e noi ribadiamo che tra il 49 e l'80 sostanzialmente non cambia niente se no la quantità di soldi che si incassano ed eventualmente la quantità di soldi che bisognerebbe poi spendere per riportare in mani pubbliche la situazione, però dal punto di vista sostanziale il controllo della mobilità torinese avrebbe passato a qualcuno che non siamo noi e qualcuno che fa un interesse privato. E così come si vede, e ce lo aspettiamo come al solito, l'afflusso di varianti urbanistiche dell'ultimo mese, per cui a Natale, come l'anno scorso, con la continassa, si arriva in fretta e furia a dover approvare le svendite di grandi parti del territorio che si sono rallentate e soltanto perché c'è la crisi anche nel mercato immobiliare, quindi forse c'è meno interesse anche da parte dei costruttori nelle grandi operazioni, però sappiamo già che ci arriverà tra capo e collo la ricostruzione a cemento dell'area Thyssen, piuttosto che il progetto di, veramente questo aberrante, di costruire un ipermercato sul giardino davanti al Palazzo di Giustizia come, tra virgolette, riqualificazione dell'area Westinghouse. Per cui, da questo punto di vista, nulla di nuovo, appunto, forse è un po' rallentato il ritmo, però siamo di nuovo anche qui alla sensazione di una città che si svende, che svende il proprio patrimonio e i beni comuni per riuscire a tirare avanti. E lo stesso riguarda poi la parte dei diritti, cioè basta andare a vedere, per esempio, il taglio dei fondi continuo ai cantieri di lavoro, che è vero che è stato gestito con un artificio contabile, spostando una parte della spesa sull'anno prossimo, insomma c'è stato tutto un meccanismo, però di fatto da diversi anni ormai l'investimento della città nel dare lavori socialmente utili in qualche forma alle persone che sono disoccupate e ne hanno bisogno per vivere, sta progressivamente arretrando. E lo stesso è nei diritti, per cui noi passiamo tutto il tempo in Commissione Sanità a sentire le giuste lamentelle di gente che soffre, che ha bisogno di malati, di disabili, di minori, che si vedono progressivamente ridurre le garanzie e su questo appunto, per esempio, basta prendere il caso del trasporto ai disabili, che fosse più clamoroso, stanziato 2011 3 milioni e 47 mila euro, stanziato 2012 2 milioni e 233 mila euro, stanziato 2013 1 milione e 511 mila euro. Cioè siamo arrivati a dimezzare lo stanziamento in due anni, nonostante le affermazioni poi sul fatto che non sia stato tagliato niente. E in generale, specie nel diritto della questione della salute, il diritto alla salute viene continuamente compresso, per cui nonostante le affermazioni ci sono sempre più diritti riconosciuti anche dalle leggi nazionali, regionali, dalle nostre libere, che diventano non esigibili, che di fatto la città non è più in grado di garantire perché non ci sono i soldi. E questo mette forse in evidenza anche l'ipocrisia della politica, che appunto da una parte fa, come dicevo prima, marchette, per cui fa delle leggi che garantiscono a chiunque qualunque tipo di diritto, qualunque tipo di impegno su qualunque argomento, per fare bella figura con gli elettori che sono interessati a quell'argomento. Però poi nella pratica quelle leggi, quelle norme, vengono generalmente disattese perché poi nella sostanza non ci sono più le risorse per garantire questi diritti e ovviamente bisogna capire chi le ha sprecate, come le ha sprecate e come sono andate perdute. E questo si vede anche poi nella cura dell'ambiente urbano, per cui un altro settore che è in progressivo disarmo è quello delle manutenzioni, su cui devo dire, ammiro l'odevole impegno anche dell'assessore Rubatti nel cercare di trovare i fondi per riparare le buche e c'è stato effettivamente un impegno a mettere lì dei soldi, per carità capisco anche che qualcosa si provi a fare. Però la sostanza di chi gira per la città è una città sempre più sciatta, con sempre più buche non riparate, sempre più aiuole non tagliate e anche qui arrivano i cittadini infuriati dicendo sotto casa mia c'è un giardino con l'erba alta un metro e bisogna tagliarlo e tu non sai quasi se rispondi degli stima guarda che tutta la sua città è messa anche peggio, perché alla fine veramente giustamente il cittadino pretende il servizio nelle aree che lo riguardano, però la dimensione generale è di un'intera città che ha dei grossi problemi, semplicemente a mantenere funzionale e decente quello che c'è. E dico tutto questo perché poi arrivo al punto più delicato che è forse quello che riguarda poi la guerra tra poveri, la situazione della povertà crescente e gli effetti che essa ha sulla società e sulla vivibilità anche della nostra città. Perché voglio dire, se noi prendiamo situazioni, una forse più particolare è quella della Movida, su cui per carità forse stiamo riuscendo a far cambiare un po' il trend a forza di insistere, a far capire che nessuno vuole chiudere la vita notturna ma c'è anche bisogno di possibilità di dormire per chi vive in casa propria e vorrebbe semplicemente riposare ogni tanto, ma quella forse è una situazione ancora particolare perché non è direttamente legata alla povertà, anche se secondo me è legata al fatto che molte persone in questa società hanno bisogno sempre più di divertirsi tutta la notte, di sballarsi, come si dice anche con un brutto termine, o semplicemente di stare fuori in compagnia perché non hanno molto di cui divertirsi durante il giorno, nella propria attività professionale, non trovano lavoro e vuol dire abbiamo anche in questa città come in tutta Italia una quantità crescente e veramente enorme di cosiddetti NEET, persone di età piuttosto giovane che non studiano, non stanno facendo un apprendistato e non lavorano. Però appunto poi si arriva alla situazione più assurda come quella di Borgodora, che è un'area della città in cui nel weekend le persone sono sequestrate in casa, non riescono più neanche a uscire dalla quantità di persone che arrivano cercando di, per la propria sopravvivenza, vendere cianfusaglie, roba raccolta nei cassonetti, immondizia vera e propria, cercando magari di ricavare 50 centesimi, un euro con cui comprarsi qualcosa con cui mangiare. E questa situazione onestamente nessuno la sa affrontare, perché poi c'è secondo me un'eccessiva tolleranza, perché va bene appunto la tolleranza con chi è povero, deve raccimulare in qualche modo dei soldi e non possiamo probabilmente andargli a chiedere neanche il pagamento di una minima tassa per occupare un angolo del bacchetto, gli 8 euro che vengono chiesti per l'area di libero scambio al balun. Però d'altra parte non si può neanche accettare che questa invasione progressiva della povertà impedisca al resto della città di vivere, per cui in qualche modo bisogna riuscire a gestire questa situazione evitando che si trasformi appunto in una guerra tra poveri, perché poi non è che chi ha il negozio e non riesce a aprirlo perché davanti c'è praticamente accampate delle persone che vendono altra roba e impediscono ai clienti di entrare, piuttosto che chi non riesce a entrare in casa con la macchina nel cortile e magari spesso neanche proprio nel portone di casa a piedi. Ecco, non è che queste persone siano straricchi, che vivono bene e sfruttano i poveretti, e per cui spesso in questa società si crea veramente uno scontro tra poveri. E questo è paradigmatico poi ogni volta che si arriva a parlare di nomadi e devo dire che è molto difficile affrontare l'argomento perché appena ci è stato presentato il bilancio è partito il comunicato stampa dalla Lega Nord dicendo la città spende 11 milioni di euro per stranieri nomadi, è una cosa impossibile, eccetera. E purtroppo queste cose poi rimbalzano, per cui l'allarme che io mi sento veramente di lanciare è che anche se qui forse non tutti se ne rendono conto, c'è veramente una progressiva creazione di odio anche verso alcune di queste categorie. Rimbalza, per esempio, io ho visto una foto circolare su Facebook, non l'ho condivisa io, non l'ho messa io, non è neanche di Torino, ma per esempio due o tre giorni fa è stata postata questa foto che inquadra un cartone con due pacchi di pasta. Commento, qui c'era un rom che chiedeva le lemosina, che diceva che aveva fame e deve mantenere i figli, poi in realtà gli viene dato la pasta, lui l'ha mollata lì schifata e è andato a fumare, evidentemente non aveva bisogno. Questa foto ha fatto, ne lo sono anche scritto, 10.373 mi piace e 16.471 condivisioni in due giorni. Perché evidentemente nella nostra società c'è questo sentimento di pregiudizio, lo vogliamo chiamare, però c'è un sentimento che non prescinde comunque dall'osservazione della realtà, perché sicuramente chi osserva queste cose tende a, come tutti sappiamo, a assimilare le cose che confermano la propria teoria, quindi chi ha già un pregiudizio nei confronti che siano i nomadi, che siano gli italiani, che siano qualunque tipo di categoria, osserva soltanto i dati che confermano questa teoria e ignora i dati che la negano. Però d'altra parte qualcosa dovremmo pur fare, perché io veramente mi sento di dire che forse non ci rendiamo conto dell'odio che monta nella nostra società. E questo è proprio legato a quello che dicevo prima, cioè alla progressiva sparizione, sfaldamento dello Stato, delle istituzioni, al senso di abbandono che danno molte nelle nostre zone, proprio perché c'è l'erba non tagliata e le buche non riparate e così via. E quindi la gente si sente abbandonata e poi naturalmente va a cercare un capo espiatorio, poi ognuno può giudicare più o meno giustificatamente le cose che si fanno. Però sostanzialmente alla fine se uno va a vedere queste cose, magari come è stato fatto a me, io mi sono ritrovato tre volte in un giorno un articolo che diceva che la città spende 5 milioni di euro per i nomadi ma poi non ha i soldi per portare la carta igienica nelle scuole e aumenta le mense, il che purtroppo è un dato di fatto, perché tecnicamente è una realtà, la città spende 5 milioni di euro, peraltro poi naturalmente la risposta è spiegare che sono 5 milioni di euro che arrivano a livello nazionale, che comunque servono, perché se no comunque quella situazione va gestita, cioè che in realtà la città spende 11 milioni di euro su straniere nomadi ma ne spende 85 su anziani minori, quindi la realtà è più complessa di come viene presentato in questo modo semplificato, però il messaggio che passa è quello lì. E allora forse noi dovremmo riuscire a trovare il modo di non far sentire nessuno abbandonato anche nelle nostre scelte di bilancio, e invece quello che succede è che poi ognuno va a vedere magari quella cifra semplicemente che arriva sulle cose che gli interessano e c'è una divisione veramente di una società che poi progressivamente diventa sempre più divisa tra chi è incluso e chi è escluso, tra chi ha e chi non ha, tra chi si salva perché siamo al si salvi chi può, quindi c'è qualcuno che si salva e bene o male garantito in qualche modo fa parte di una categoria, ha un posto di lavoro sicuro, e chi invece non ha niente e chiede chi è che si deve occupare di me, come faccio io a sopravvivere. E purtroppo le istituzioni non riescono più a dare risposte a queste cose. E quindi la sensazione è veramente di un comune, di un'istituzione che si ritira. Dopodiché, dopo questo bel quadro, naturalmente dovrebbero arrivare le proposte e io sono il primo a rendermi conto che non è la città da sola che può risolvere un problema di questo genere, cioè che comunque sono le politiche nazionali, che comunque c'è un problema economico che è legato anche ai nostri rapporti macroeconomici con l'Unione Europea, alla valuta, all'euro come è stato introdotto, come è stato gestito, alle scelte economiche, cioè è un problema veramente enorme che probabilmente non è adatto, cioè non può risolvere certo il Consiglio Comunale di Torino. Però in qualche modo queste cose noi ce le dobbiamo porre e magari dobbiamo porle a chi sta nelle sedi più elevate della nostra, in Parlamento e così via, perché veramente il rischio se no è, come dicevo all'inizio, di concentrarci soltanto sulle piccole cose, di andare magari a discutere di 10.000 euro in più per la cultura, per un progetto, per qualcosa, 10.000 in meno magari per un'altra roba, ma di perdere di vista il senso che veramente è quello che poi si percepisce tra la gente, cioè della progressiva sparizione dello Stato italiano. Grazie. Grazie consigliere.